Ciao, 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 ciao Allora, il mio DJ, chiedo qui, lo vedete? Lo vedete tutti, vero? Sì, no, io non lo vedo Lui oltre che essere sordo è anche seco, ma lì c'è il 1400, vabbia Comunque ragazzi, il mio DJ mi ha detto che finché non vi volete, non fa la schiuma E cominciamo ad aumentare un po' il ritmo, adesso facciamo sul serio, ci prepariamo E da questo momento incomincia il vero party Oh yes, terzo nuovo DJ, Stefano, anche DJ, Ivan Paulson L'animazione speciale, wow La cominciamo proprio da questo momento «R fodera un po' il kompiro, aveteuto domande, vabbia Buscoš La fondazione speciale Il vero partezza Il vero partezza ragazzi creiamo l'atmosfera facciamo così se qualcuno di voi ha un accendito in cellulare qualcuno di voi non ci devo fare non ci devo fare non ci devo fare Grazie per la visione! 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 Grazie! 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 Grazie per la visione!